Andiamo di illuminante, anche in questo caso in crema, mettiamo tutto in crema, abbiamo messo tanta cipria, ma che ci importa? Io lo adoro, cioè sì, è luminosissimo, sì, se non vi piace ovviamente l'effetto perché è troppo luminoso, mettete un po' più di cipria, però io lo trovo stupendo come effetto. Sotto, facendo una linea dritta, che esce un po' dalla linea naturale delle mie labbra, e la stessa cosa la faccio sopra, sull'arco di cubito, così.